Come stanno andando le vendite in questo periodo di saldi? Dunque, in questo periodo di saldi c'è abbastanza affluenza, però rispetto all'anno scorso sono un po' calate le vendite, nel senso, spiego, c'è gente, ci sono i ribassi, i prezzi e così, però per il periodo di saldi iniziale, proprio quando è iniziato il 2 luglio, mi aspettavo più persone, poi varia dai giorni, giorno a giorno, è un po' variabile la situazione. Quali sconti applicate? Allora noi applichiamo solitamente, fino al 70 ancora non abbiamo tanto, un 30%, un 40%, anche il 50%, ci sono molti percentuali sul 50%, i prezzi sono già abbastanza abbordabili, c'è un rapporto qualità-prezzo, quindi buone offerte, buoni sconti. Le persone tendono ad acquistare solo capi in saldo oppure anche il resto degli articoli? Ma guardi, in teoria qui quasi tutte in saldo, diciamo, sono poche le cose che non sono in saldo, però sì, devo dire che anche cose non in saldo. Ho acquistato una camicia approfittando dei saldi, il mio budget di spesa non è altissimo, io penso sempre di spendere intorno a camicia e pantaloni non più di 30 euro. Approfitterei di questi sconti per fare regali a qualcuno? Attualmente non ho in mente nessuno, però visto che ci siamo, magari adesso che mi ha dato l'idea, ne approfitterò sicuramente. Stai approfittando di questi saldi per fare compere? Sì, sto comprando un paio di robe, perché secondo me, cioè io aspetto sempre i saldi. Cos'hai acquistato? Allora, ho preso tre top, due magliette e un paio di pantaloncini. Il tuo budget di spesa? Sui 50 euro. Rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo avuto meno affluenza, magari sarà per via del caldo, quindi la gente va al mare, anche se rispetto agli altri anni comunque se acquistava online, comunque vengono in qui in negozio, però magari visto le basse temperature, quindi magari c'è meno affluenza rispetto all'anno scorso. Quali sconti applicate? Allora, fino al 50% di sconto. Che cosa avete acquistato? Eh, guarda, qualche vestito, maglietta, pantaloni, camicette, così, normale. Il vostro budget di spesa? Adesso io ho speso 12 euro, quindi è andata bene. Avete aspettato il periodo dei saldi per approfittarne? Sì, io sì ho aspettato, per spendere di meno, sì, senz'altro.